This forever animal, la pera, so much lo que somos presents, cinema music, seven of our lives, Raj Raj Raj, for watching one day more, cinema music, seven of our lives, Raj Raj Raj, and don't forget to share your videos with family and friends, and of course, subscribe! See you next time! See you next time! Do you like it with someone else? I found the right person. It's called Carlo. Let's get into it. You'll like it. You'll like it. Do you want me to go there? This seems right. A beautiful boat, a vela, a tramonto. Bello, eh? No, a lot! You're trying with me? I didn't try with him. I've never asked what you did. In the liceo. Linguistico. Ciao. Ciao. In alto, in basso, Natale, che spasso. L'unica cosa che mi interessa è trovare un ragazzo abbastanza normale da portare a cena per Natale a casa dei miei genitori. Magari devi solo guardarti intorno. Se io avessi ascoltato gli altri, avrei fatto meno della metà delle cose che ho fatto nella mia vita. Wow. A tutte le volte che la passione ci ha giocato brutti scherzi. Se questo amore per sempre non esistesse. Allora Gianna, questo misterioso fidanzato arriverà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Don't forget to share your videos with family and friends. And of course, subscribe. Grazie a tutti.